che è un maestro artigiano che gira il mondo, che ha lavorato agli uffizi, lavora in provincia di Arezzo, lei è del Valdarno, mi ricorda il suo nome, non me lo so scritto perché è più fine, Stefania di cognome? Bracci. Che ha il laboratorio di restauro e lei qui davanti ha delle cose che io le volevo chiedere. Ci sono dei piccoli strumenti, voi restauratori che operate su elementi del rinascimento, quadri di grande importanza, usate cose semplici, cioè non... Sì, 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 molto semplici, anzi si tende prevalentemente a usare delle materie che siano affini con quelle che aveva usato l'artista e quindi dell'epoca, diciamo, senza grossi... Quale dote crede che sia importante oggi per mantenere la nostra cultura e i nostri valori, per voi restauratori? Che cosa, lei, la sua dote, che cosa deve avere per... Penso ci vuole un sapere che va acquisito e questo è formazione e da quello... Questo non si può bypassare e dopodiché ci vuole però anche un valore aggiunto. Sto vedendo infatti delle sue immagini di un restauro che ha fatto per mostrare il valore dell'esperienza. Se io dico che però ci vuole prima di tutto, oltre alla cultura, la dopo è scontata, una grande passione, l'elemento che muove tutto, credo, o no? Sì, quello è fondamentale, sì, perché già senza quella c'è quelle che... Mentre il banco qua vicino c'ha dei profumi che sono indubbiamente... Sta tutto schiano, gli arrivano, c'è quella carne là con quel prosciutto che... Lasciamo stare, va bene. Arrivano dei profumi incredibili. Ecco, quello per esempio che è il mio lavoro, possano essere registrati o come profumo o addirittura come cattivo odore. E già lì si comincia a interpretare la passione. Gli odori della passione che arrivano. Gli odori della passione. Perché sono le piccole boccettine alchemiche che sono, si chiamano non diluenti, no? Eh, solventi. Solventi o diluenti, modello vernice. Sì, va bene, aguale. Guardate là che cosa ci sono. Vedete, dentro ognuna di queste c'è un sapere, se dico che sono cose che sono nate dalle tradizioni ormai di qualche secolo, va bene? Non dico così bene. Pensate che la nostra Etruria è anche in una boccetta di strumenti utilizzati per il lavoro. Mi collego con Roberto che vedo le pecole.